Bentornati, oggi siamo arrivati alla lettera 27 dell'Epistole Morale Sadalucilium e il tema è molto importante, la virtù è fonte di felicità. Attraverso la lettera Seneca tenta di evidenziare quanto sia importante una vita semplice, priva di eccessi e soprattutto quanto sia fondamentale per avere una vita serena, felice, gioiosa, evitare i desideri inutili, non necessari, perché il tema che studia, che tratta in questo caso è legato all'infelicità, all'infelicità di ogni uomo perché siamo continuamente insoddisfatti. Che cos'è quel male di vivere? Forse perché seguiamo dei desideri e vogliamo delle cose che in realtà non ci servono e quindi siamo perennemente infelici. All'inizio ci presenta come sempre la metafora del malato, infatti non ha la pretesa di essere superiore all'interlocutore, egli stesso è un malato, però ci propone la medesima medicina, è una persona saggia che è già andata avanti lungo il percorso e che quindi dice metto in comune le medicine perché tutti i disagi, tutti questi sintomi di una grave malattia, quella dell'insoddisfazione, dell'infelicità è una condizione universale che riguarda ciascuno di noi, nessuno di noi è esente e quindi i rimedi sono comuni proprio perché ci affliggono gli stessi mali. Non sono così disonesto da pretendere di curare gli altri essendo io stesso malato ma come se stessimo in un unico ospedale, quindi il mondo qui diventa l'ospedale, parlo con te della comune malattia e metto in comune le medicine, perciò ascoltami come se io parlassi a me stesso. Quindi sono dei consigli perché ha scoperto che il rimedio è comune, è uguale per tutti. Ti ammetto nel mio segreto e mi esamino in tua presenza e come fa il maestro così anche noi dovremmo continuamente fare questa analisi introspettiva per capire che cosa funzioni e che cosa non funzioni nella nostra vita e quindi comportarci poi di conseguenza. Avvicinandosi l'ultimo tuo giorno, quindi man mano che ci avviciniamo verso la fine, cerca almeno di conseguire questo fine, bisognerebbe avere questo obiettivo i tuoi vizi muoiano prima di te, moriantur ante te, vizia, vizia moriantur ante te, i tuoi vizi muoiano prima di te. Interessante, non bisogna continuare ad alimentarli perché siamo noi a nutrire costantemente non solo i vizi ma anche i desideri sbagliati e quindi siamo portati a desiderare sempre ciò che in realtà non ci serve, a frequentare delle persone che in realtà non ci rendono più felici perché devo stare con qualcuno se non mi fa sentire bene. Siamo abituati ad attribuire le colpe agli altri o a ciò che è indipendente dalla nostra volontà, magari alle circostanze, al caso. In realtà siamo noi, siamo proprio noi fonte di felicità o di infelicità. I vizi, quindi tutti i desideri non necessari, non nuocciano solo quando si è in attesa di soddisfarli ma anche quando sono passati. Ad esempio come resta il rimorso dopo un delitto, anche se non si è colti sul fatto, così anche dopo i cattivi piaceri rimane il turbamento prodotto da essi. Continuare a nutrire desideri, ambizioni sbagliate che non ci rendono, cioè felici, che non ci fanno sentire bene perché in realtà ne siamo schiavi, solo che noi non ce ne accorgiamo, ebbene ci produce l'effetto contrario a quello che vorremmo, una vita infelice, insoddisfacente, perennemente sottomessi a qualcuno o a qualcos'altro, ma noi soffochiamo in questo modo la nostra essenza, il nostro vero io. E allora qual è il rimedio, qual è la medicina? Piuttosto cerca intorno a te qualche bene che possa durare, i beni durevoli, non quei desideri che poi continuamente ritorneranno perché noi placchiamo la sete solo per brevi istanti ma poi vogliamo un'altra cosa e poi un'altra ancora, quella persona non mi basta più, ne voglio un'altra e poi un'altra ancora e continuo ad essere infelice. I beni che l'animo non trova in se stesso sono inconsistenti, solo la virtù procura una gioia sicura e costante, sola virtus prestat gaudium perpetuum securum, sola virtus, soltanto la virtù. Ecco il tema centrale della lettera, la virtù è fonte di felicità perché la virtù è in nobis, è dentro di noi, nessuno ce la può portare via e soltanto noi la possiamo nutrire ed alimentare. Dobbiamo cercare, dobbiamo capire ciò che ci rende davvero felici ma non è all'esterno, è dentro di noi e una volta che noi l'abbiamo capito dobbiamo combattere per essa fino alla morte, nel tentativo di realizzarla. Sono nato per essere un insegnante benissimo, tento di diventarlo in tutti i modi, desidero ardentemente aiutare gli altri magari facendo il medico, benissimo, ecco qual è la mia strada, non devo seguire ciò che vogliono gli altri o semplicemente per compiacere qualcuno perché non sarò mai felice e soprattutto attenzione, dirà Seneca anche in altre occasioni, ai beni materiali, perché i beni materiali sì li desidero ma poi quando li ho sono di nuovo infelice, non significa non averne perché molti dicono ma allora è meglio la miseria? No, è l'obiettivo che io mi pongo, l'oggetto mi serve per vivere meglio ma non è il fine, è soltanto un mezzo, cioè detto in altri termini se io desidero viaggiare, vedere un posto, il mio obiettivo è andare in quel posto, non come ci arrivo, posso andare in macchina, posso andare in treno oppure in aereo, non sono i mezzi importanti ma è l'obiettivo andare in quel posto, conoscere delle persone e arricchirmi attraverso un'esperienza indimenticabile, non ha importanza se utilizzo una panda, una ferrari, una porsche o una bicicletta, l'obiettivo è un altro, è questo che noi non capiamo e sorge una domanda spontanea altrettanto importante, quando potremmo giungere a questa gioia? Cioè non è semplice, infatti Seneca ce lo ricorda, resta ancora molto lavoro a cui tu di persona, sì proprio tu, devi dedicare le tue veglie, le tue fatiche, se desideri che sia portato a compimento, non è un lavoro da delegare agli altri, a nessuno, soltanto noi possiamo farlo, perché è un lavoro che va continuamente fatto su noi stessi, giorno dopo giorno diventiamo esseri migliori, siamo perfettibili, non perfetti, perché camminiamo sulla via della perfezione, ma è un lavoro che dobbiamo fare noi, non possiamo pretendere che cambino gli altri se non siamo noi i primi a cambiare, se ognuno di noi facesse questo lavoro il mondo sarebbe un posto migliore, quindi dobbiamo migliorare per noi stessi, non per gli altri, perché studiamo, non perché una cosa mi serve o non mi serve, questo è l'errore, noi siamo abituati a una società basata sull'utile, tutto ciò che non serve va eliminato, è sbagliato, tutto può servire, perché tutto ci arricchisce, anche ciò che non ci piace o che non condividiamo, però lo possiamo comprendere anche se poi non aderiamo a quella cosa, ma per capire devo studiare, devo imparare la cultura, l'istruzione, il sapere, è la base fondamentale, chi vi dice il contrario o vi sta ingannando o vi sta prendendo in giro o evidentemente vi vuole manipolare in qualche modo, voglio che vi rimanga questo, che queste pagine sono di un'attualità disarmante, sono attualissime e ci spingono a riflettere, cioè Seneca ci pone degli interrogativi, ci dà dei consigli che mettono poi in moto un meccanismo importante che si chiama ragionamento logico, bisogna accendere elementi, non bisogna spegnerle, ognuno di voi deve trovare la propria strada, per citare Robin Williams dall'attimo fuggente, non spegnete la vostra voce interiore, dovete nutrirla, dovete alimentarla, non allineatevi al pensiero unico, non allineatevi a quello che pensa la maggioranza, ognuno di voi ha un'idea e vale quanto quella degli altri, non lasciatevi ingannare, non adeguatevi solo per quieto vivere, per comodità o semplicemente per non essere rifiutati da un gruppo, naturalmente senza che queste idee offendano gli altri o siano violente certamente, però ognuno di voi deve mantenere e alimentare quella fiamma, non spegnetela ragazzi. E come sempre Seneca ci porta un esempio pratico e questa volta ci racconta di un certo Calvisio Sabino, un ricco dice che aveva il patrimonio e l'indole dello schiavo affrancato, cioè leggendo questa lettera sembra proprio di sentir parlare Trimalcione, quindi sembrano le pagine del satirico di Petronio, perché questo Calvisio Sabino è totalmente ignorante, ricchissimo, ha tutto ciò che vuole, si può permettere qualsiasi cosa, ecco di nuovo il concetto della ricchezza, è sufficiente? No, è un mezzo che mi permette una vita comoda, che mi permette di vivere bene e a nessuno fa schifo una vita comoda, su questo siamo d'accordo, ma non è tutto, perché i soldi non fanno la persona, perché la persona è ciò che ha dentro, è quello che ci sta dicendo, la ricchezza è dentro di noi, la bellezza è dentro la nostra anima, non è ciò che appare all'esterno, non è il nostro involucro. Non ho mai visto un uomo più sfacciatamente felice, cioè veramente ricchissimo, come se oggi uno avesse la Ferrari, l'ultimo modello di iPhone a Megavilla, qualsiasi cosa, la fama, milioni di followers sui social network, tutto quello che volete, però dice aveva una memoria così cattiva che dimenticava ora il nome di Ulisse, ora di Achille, ora di Priamo, personaggi che tutti conoscono come il volto del proprio pedagogo, cioè questa persona era estremamente ignorante, non sapeva le cose basilari, sentite l'attualità dell'esempio, gli insegnamenti sono attuali perché la natura umana è sempre la stessa, non cambia mai, quindi valgono anche per noi oggi, ci parla a migliaia di anni di distanza, nessun rimbambito di nomenclatore, il nomenclatore era lo schiavo che accompagnava il padrone perché quando incontrava delle personalità gli ricordava il loro nome ed esiste anche oggi è quando abbiamo dei personaggi di alto profilo, politici, diplomatici, presidenti, hanno sempre delle persone che ricordano chi sia quella persona, l'ambasciatore X, il portavoce Y e così via, era peggio di tutti i nomenclatori, sbagliava tutti i nomi della poesia epica, cioè di cultura, non sapeva nulla, non sapeva chi fosse Ettore, chi fosse Achille, chi fosse Priamo, Paride e così via, li sbagliava tutti, tuttavia voleva sembrare erudito, eccola qua la differenza tra essere e apparire, quanti oggi vogliono apparire, apparire famosi, apparire belli, forti, sani, eruditi, sapienti, colti, guardate sui social, guardate TikTok oppure Instagram, cosa fanno vedere tutti che mangiano in maniera sana e che si allenano ore e ore e ore in palestra e questo viene allenato, questo è ancora acceso o ci dobbiamo tutti allineare ed essere tutti concordi e seguire un unico pensiero, un pensiero unico, io non lo so, veramente non so dove andremo a finire, se questa è la direzione, davvero una società orguegliana è alle porte, in tanti casi si sta già anche realizzando, leggete 1984 di George Orwell, non dobbiamo spegnere il nostro cervello, cioè quando vi dicono eliminate il latino, eliminate la filosofia, la storia, il ministro stesso l'ha detto, cosa serve la storia, studiamo le guerre puniche 3-4 volte, via, adesso servono solo i robot, i tablet, le lavagne multimediali, ma non perché io sia contrario, ma il ragionamento che loro fanno, cioè il futuro è la tecnologia, punto, ma l'uomo, la sua mente, la sua ragione, la creatività, dove sono andate a finire, prove standardizzate, crocette dappertutto, il pensiero critico, la creatività, il tema, perché non si fanno più i temi, guardate che stiamo andando in quella direzione, poi verremo valutati su quanto siamo veloci a cliccare sul tablet, ci daranno il voto sulla velocità dei clic, non bisogna più scrivere, non bisogna più fare sport anche a scuola, l'educazione fisica è davvero l'ultima ruota del carro, cioè io non lo so come andremo a finire, però per fortuna ci sono ancora i grandi del passato che ci ricordano chi siamo stati e dove stiamo andando anche a finire e io fino alla fine porterò avanti la fiamma non solo del sapere, ma soprattutto della cultura, non sono divagazioni, perché qualcuno a volte me lo dice, ma divaga dal tema, no, perché queste cose dobbiamo farle vivere, dobbiamo capire il perché le studiamo, perché tanti pensano che siano inutili, perché non vi spiegano più il perché siano utili, questo è il motivo, se un rappresentante del governo vi dice che sono materie inutili io mi farei due domande, quindi fate le proteste, andate in piazza, manifestate, ma manifestate per la libertà del pensiero, del ragionamento, poi si può non condividere quello che pensa l'altro, ma perché lo devo attaccare, perché lo devo ammazzare, perché lo devo insultare, stiamo sul piano dei contenuti, notate anche i talk show, quando criticano non vanno mai nel merito delle questioni, ma si limitano a gettare il fango, attenzione, perché anche questo è molto pericoloso, creare il nemico, il nemico c'è sempre, c'è sempre stato il nemico, anche i romani erano i nemici per qualcun altro, e attenzione, questo Sabino che cosa fa? Si circonda di schiavi, ad ognuno assegna soltanto dei nomi da imparare, in questo modo quando non sapeva qualcosa se lo faceva suggerire, anche i suoi schiavi spesso sbagliavano, e infatti uno che cosa gli fa notare? Che per la stessa somma avrebbe potuto comprare scaffali e scaffali di libri, cioè anziché istruire gli altri avrebbe potuto istruire se stesso, notate l'attualità anche di questo ragionamento, perché devo sempre lasciare che siano gli altri a decidere per me, perché devo lasciare agli altri la possibilità di comandarmi o di dirmi che cose io debba fare, io devo fare, io mi devo istruire, io devo sapere le cose, per migliorare il mondo, per migliorare la società e per migliorare in primis me stesso. Poi arriva l'insegnamento finale, cioè quella sentenza, noi lo sappiamo, Seneca conclude sempre con una sentenza, con una breve frase ad effetto, la virtù e la saggezza non si possono né prendere in prestito né comprare, ma scommetto che se fossero in vendita non troverebbero il compratore, mentre giornalmente si spende tanto per i vizi e qui veramente non ci sono parole, non c'è niente da commentare, è chiaro, è la palissiano, la virtù e la saggezza non li potete comprare, se non siete empatici, se non sapete insegnare, se non sapete trasmettere il sapere ai vostri alunni, non siete tagliati per l'insegnamento, questo non è un giudizio sulla persona, ma sulla professione, sapete quanti mi dicono ma non si può, non si può valutare l'empatia, la capacità di stare con i ragazzi, perché come si fa? È una cosa soggettiva, non si può e allora lasciamo entrare cani e porci, bisogna rivedere tutto il sistema del reclutamento, caro ministro Bianchi, non basarsi solo sul concorsone, sulla maxilotteria, bisogna cambiare tutto, bisogna rivedere tutto, se non sanno trasmettere le cose vanno tolti, si devono assumere i veri insegnanti, se i ragazzi non capiscono perché una materia sia inutile, non va abolita la materia, bisogna mettere lì qualcuno che gli spieghi il perché quella materia sia importante, è diverso, bisogna cambiare completamente, se i ragazzi non arrivano al 6, ma non perché abbiano delle difficoltà, ma semplicemente perché si sono abbassati i livelli, perché magari non hanno voglia, oppure perché non hanno appunto colto l'importanza di una materia, dobbiamo noi tirarli su, dobbiamo noi stimolarli, incuriosirli, farli crescere e tirare su il livello, non abbassare lo standard, è l'esatto contrario, invece voi continuate pure ad abbassare lo standard e poi gli effetti sono sotto gli occhi di tutti e potremmo andare avanti così, la virtù e la saggezza, lo ripetiamo un'altra volta, non sono in vendita, non si possono comprare la cultura, l'istruzione, l'educazione, le nostre qualità, la sincerità, l'onestà, il rispetto delle regole, nessuno vuole più rispettare le regole, provate ad andare in giro, guardate, parcheggiano sui posti dei disabili, vi rubano il posto, occupano abusivamente le case, cioè qualsiasi roba, i ladri entrano in casa e noi dobbiamo presentare subito sulla tavola le cose pronte, la cassiera, quella cassiera che ha osato alzare la voce e non ha ottenuto giustizia, la libertà non è faccio quello che voglio, la libertà è rispettare le regole e la mia libertà finisce dove inizia quella dell'altro, se no arriviamo a homo homini lupus, sono temi di un'attualità estrema, io non so come facciano certi a non capirlo, sono cose davvero vive, cioè lui ci parla adesso, è come se fosse qui in questo momento, quindi noi ci affanniamo tanto per i vizi, per i beni non necessari, ma perdiamo di vista il vero bene, il verum bonum, come l'aveva già chiamato, la virtus che è in nobis, è dentro di noi, ma eccoti la tassa che ti debbo e addio, di vizi e sunt ad legge in nature composita paupertas, vera ricchezza è una povertà regolata secondo la legge della natura, la vera ricchezza è seguire la virtus interiore, soddisfare i nostri bisogni primari perché quelli dobbiamo per forza alimentarli perché altrimenti non potremo vivere, mangiare, bere, avere rapporti sessuali, avere delle amicizie, qualsiasi cosa vogliate, ma solo le piccole cose, le cose necessarie, perché sono poche le cose che veramente ci rendono felici, i bei momenti vissuti insieme, non il resto, il resto è passeggero, oggi c'è, domani non ce lo abbiamo più, è ciò che dice Picuro ora in una forma ora in un'altra, perché non si ripeterà mai abbastanza ciò che non si impara mai abbastanza, dobbiamo continuamente sentirlo ripetere perché spesso ce ne dimentichiamo, a qualcuno basta presentare la medicina, altri invece hanno bisogno di essere imboccati, addio.